La filigrana sulle fotografie. Quanto è importante scrivere il nostro nome sulle nostre opere prima di pubblicarle sui social o da qualsiasi altra parte? È proprio vero che se non mettiamo nome, cognome, indirizzo, sito web e copyright su ogni singola cosa che pubblichiamo ci verrà immediatamente rubata dagli hacker più cattivi del web? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi ci dedichiamo alla fotografia. In particolare voglio parlarvi di Watermark, ovvero tutto ciò che andiamo ad applicare in sovraimpressione sulle nostre immagini prima di pubblicarle. Un Watermark può essere un logo, per esempio se andiamo su un'agenzia di microstock vedremo la filigrana di Shutterstock, di iStock by Getty Images, di Adobe Stock. Sono tutti appunto Watermark, quindi semplicemente se fate una ricerca per immagini su Google, se cercate immagini di qualsiasi cosa, le prime che vi verranno fuori sono immagini a pagamento e vedete che avranno dei Watermark in bella vista. Che cos'è un Watermark? Fondamentalmente è un segno, una scritta, un qualcosa, un logo che viene messo in sovraimpressione sopra l'immagine. In caso di immagini a pagamento viene messo di traverso, bello grosso, in maniera tale che renda l'immagine inutilizzabile di fatto. Perché essendo un'immagine a pagamento, se io voglio utilizzare quell'immagine devo acquistarla. Quindi ho un'anteprima a disposizione, quindi riesco a percepire cosa c'è nell'immagine, ma non posso usarla così. Perché se la uso così si legge Shutterstock di traverso e io non voglio che si legga Shutterstock perché faccio la figura del cretino. Se metto un'immagine con la filigrana dell'agenzia di microstock su una pubblicazione. Quindi se la voglio senza filigrana la devo acquistare. Ora potremmo parlare a lungo di un fatto di cui sono stato testimone anni fa di un nostro cliente che aveva stampato un cartellone 6x3 con un'immagine sulla filigrana di non mi ricordo quale agenzia. Potremmo parlarne a lungo perché c'è da sbellicarsi dalle risate, ma io qui voglio fare un discorso serio per quanto possibile. Ora per noi fotografi che cosa significa Watermark? Significa che chiaramente noi non siamo agenzie di microstock, quindi non mettiamo un logo di un'agenzia di microstock. Noi andremo a mettere il nostro nome e cognome, andremo a mettere copyright Pinko Pallino 2023 o quello che è. Andremo a mettere probabilmente il simbolo del copyright con nome e cognome. Magari il nostro sito web, magari il nostro Instagram se non abbiamo un sito web, se ci facciamo contattare tramite Instagram. Insomma il Watermark per i fotografi dilettanti, semiprofessionisti e professionisti è semplicemente un segno distintivo, un riconoscimento, magari un contatto che viene applicato sulle foto da qualche parte. Vi porto in particolare l'esempio della fotografia musicale, quindi fotografia di live. È pressoché impossibile vedere un'immagine senza un ghirigoro strano, un logo strano di qualche fotografo negli angolini da qualche parte. È pressoché impossibile. Perché? Perché i fotografi in ambito musicale raramente vengono retribuiti. Quindi si recano a fare le fotografie a titolo quasi esclusivamente di volontariato e quindi la visibilità è l'unica moneta di pagamento che possono ottenere in cambio della loro prestazione e quindi mettono un Watermark da tutte le parti. Che cosa significa un Watermark per un fotografo? Nella testa di chi lo mette il Watermark è una sorta di targhetta identificativa. Questa fotografia appartiene a... perché di fatto per la legislazione italiana, ma non solo, c'è una convenzione internazionale, chi preme il grilletto è detentore dei diritti di quell'immagine, che significa che può farne quasi quello che vuole, a meno che non ci siano delle persone ritratte e in quel caso ci deve essere il consenso anche delle persone ritratte. Ciò non di meno i diritti sono detenuti da chi ha premuto il grilletto, quindi ci deve essere un consenso magari per la vendita delle immagini su piattaforme di microstock da parte delle persone ritratte, ma i diritti di vendere sono unicamente del fotografo, quindi la persona ritratta non può vendere le immagini perché non sono sue, sono del fotografo. Dunque un fotografo quando applica un Watermark che cosa sta facendo? Fondamentalmente sta mettendo a chiare lettere questa foto è mia, nome e cognome, non usare senza permesso. Fondamentalmente questo sta dicendo il fotografo, sta dicendo questa fotografia mi appartiene in quanto sono io che ho premuto il grilletto, quindi questa immagine è mia, quindi per farne qualsiasi utilizzo dovete chiedermi il permesso. Ora io vi posso testimoniare che i musicisti ritratti da questo punto di vista sono di solito molto corretti perché solitamente quando qualcuno a titolo, come vi dicevo, di volontariato va ai concerti e attenzione nel pit, non tra il pubblico, perché il pubblico in teoria non ha il permesso di scattare foto a un contesto del genere, non con strumentazione professionale perlomeno col cellulare, sì ma con strumentazione professionale sei un fotografo accreditato che quindi sta in primissima fila nel pit. Ora i fotografi accreditati vengono di solito accreditati da webzine, riviste, vari enti che operano nel settore musicale ma che per un motivo o per l'altro, vuoi perché nessuno compra più le riviste, vuoi perché la pubblicità su internet ormai porta dei ricavi molto esigui, non hanno i fondi per retribuire i fotografi e quindi non lo fanno. Spesso e volentieri questi fotografi sono lì a titolo di volontariato e quindi l'unica cosa che ottengono per essere stati lì è che si vedono il concerto gratis e poi ottengono un po' di visibilità dalla condivisione delle loro foto. Per cui ci tengono tantissimo a mettere il watermark in bella vista perché senza il watermark nessuno sa che sono stati loro a fare le foto. Ora questo succede in ambito amatoriale, succede anche soprattutto in ambito semiprofessionale, succede molto poco in ambito professionale. Questo per una serie di motivi. Voglio citarvi per primo il motivo più importante. Io assistetti una volta a un seminario del leggendario Scott Kelby. Per chi non lo conoscesse, ignoranti, andatevi a scoprire chi è Scott Kelby che non ha certo bisogno di presentazioni. Fondamentalmente Scott Kelby, guru di Photoshop e ottimo fotografo per chi non lo sapesse, diceva una cosa molto molto semplice e molto banale che io vi riporto, non è farina del mio sacco, è farina del suo, quindi con la massima trasparenza ve lo dico. Lui durante un'intervista affermò che non era suo interesse dopo anni di carriera, magari agli inizi sì, ma lui non crede nell'applicazione del watermark sulle fotografie. La sua motivazione che io ho totalmente fatto mia è veramente spiazzante. Nel momento in cui io metto un watermark sulla mia immagine fondamentalmente sto rovinando l'esperienza di fruizione della mia bellissima immagine con un arzigogolo bruttissimo, nel migliore dei casi è una scritta molto fine ma nel peggiore dei casi è un accrocchio, un ghirigoro orrendo magari fatto con dei font gratuiti trovati online. Per cui io sto rovinando l'esperienza di fruizione della mia immagine, magari faticosamente prodotte di ottima fattura, ma ciò non di meno ne sto rovinando la fruizione a un milione di osservatori per paura che ci sia uno di loro che potrebbe rubarmela. E questo se ci pensate ha veramente poco senso, perché io sto abbassando il valore della mia immagine mettendoci una scritta sopra, quindi l'occhio dell'osservatore potrebbe non andare più dove doveva essere indirizzato dalla mia composizione, dalla mia illuminazione, ma andrà semplicemente a leggere il mio nome e cognome e il mio sito web. Adesso non parlo più di fotografie di concerti, dico in generale. In generale io mettendo una filigrana, mettendo un watermark su un'immagine, la sto rovinando. Certo, rendo riconoscibile il mio lavoro al di là di ogni ragionevole dubbio, però dobbiamo anche domandarci una cosa. Se il mio lavoro ha bisogno di avere il mio nome scritto sopra a caratteri cubitali per essere riconoscibile, non sarà che forse potevo lavorarci un po' di più sulla realizzazione della fotografia in questione per farla un po' più mia e per renderla un po' più riconoscibile e per affinare il mio stile? La risposta la sappiamo già, la risposta è sì. Quindi nel momento in cui andiamo a mettere la nostra filigrana, il nostro logo, il nostro sito web, il nostro watermark sopra l'immagine, a parer mio e di Scott Kelby, la stiamo mortificando perché stiamo inserendo un elemento che non è decorativo, non aggiunge niente, semmai toglie qualcosa. A ulteriore corollario dobbiamo dirci almeno due cose. La prima, se io guardo una fotografia e mi piace così tanto che voglio assolutamente contattare il fotografo, ma volete che non trovi il modo? Ci sono i tag, ci sono i link, ci sono i profili, ci sono i commenti per chiedere. Se uno proprio, cioè se non è taggato il fotografo, basta chiedere dove hai preso questa foto e chi l'ha ripostata ce lo dice. Cioè se uno vuole veramente trovare il fotografo, lo trova. Non ci sono dubbi su questo, se uno vuole veramente trovare il fotografo, lo trova. E vi voglio raccontare un aneddoto a questo proposito per farvi capire come sia sciocco pensare che serva a tutti i costi il watermark per essere trovati. C'è stato un tempo in cui io ero esclusivo su iStock by GetImages, quindi le mie immagini venivano comprate su GetImages per delle cifre assolutamente assurde. Un bel momento io rescissi il contratto di esclusività perché per una serie di vicissitudini non mi conveniva più. Quindi che cosa successe? GetImages andò mano a mano a rimuovere le mie immagini esclusive dalla sua piattaforma per tenerne una percentuale inferiore e quindi molte delle mie immagini vennero tolte dalla selezione principale in cui erano state inserite. Ora che cosa accade? Un bel giorno mi scrive su Facebook una signora tedesca. Mi scrive in inglese, io non ho problemi con l'inglese quindi le rispondo e mi dice guarda ti ho riconosciuto per il nome per la foto profilo. Io avevo visto una tua foto su GetImages e l'avevo messa in collezione ma adesso non la trovo più. Quell'immagine mi serve, mi dice, perché io lavoro per una rivista e ho bisogno di quell'immagine. Mi piaceva tanto, la volevo usare. Quindi capite? Cioè neanche si parla di social, si parla di una piattaforma di microstock e questa persona è riuscita a contattarmi privatamente sui social per chiedermi quell'immagine. Per cui capite che se uno veramente vuole la vostra foto, cioè su Getty non c'era la filigra, c'era scritto Getty Images, I stock by Getty Images al più, non c'era scritto il mio nome e cognome. Per cui se una persona veramente ci tiene ad avere la nostra prestazione lavorativa, ci trova. Quindi state sereni che la filigrana, il watermark non serve per farsi trovare. Seconda cosa che ci dobbiamo dire, qualcuno di voi è mai stato contattato per aver messo il watermark su una foto? Non lo so e ve lo chiedo, ditemelo nei commenti, massima trasparenza, massima onestà. Io vi dico no, a me non è mai successo, nessuno mi ha mai contattato per aver visto un watermark su una mia foto. Anche perché l'ho messo solamente per i primi anni della mia, chiamiamola carriera, dopo l'ho tolto perché non me ne fregava più niente e perché sapevo che chi mi voleva contattare mi contattava anche senza il watermark. Fatemi sapere se qualcuno di voi crede che mettere il watermark serva a qualcosa se qualcuno di voi viene contattato tramite il watermark. Posto che questo sia possibile perché il watermark non è cliccabile e non conduce al vostro sito, quindi tutt'al più sarete contattati tramite un tag. Però parliamone nei commenti perché sono veramente interessato a capire e vedere se ci sono esperienze diverse dalla mia. Non ultimo, e mi rifaccio sempre a quanto appreso dal buon Scott Kelby, che cosa succede nel momento in cui noi mettiamo la nostra foto senza watermark e quindi un milione di persone fruisce la nostra opera, che bella questa foto, ah meravigliosa, like, commenti eccetera eccetera e uno tra questi decide di rubarcela. Che cosa succede? Io mi ricordo la risposta di Scott Kelby e lui dice ma io non aspetto altro, io sto pregando che qualcuno me la rubi. L'intervistatore basito dice ma come? Cioè perché? E Scott Kelby con la massima calma glielo spiega e dice vedi, ci sono due tipi di furto. Può essere un privato che ruba la mia immagine e che ci fa un biglietto di San Valentino da stampare privatamente e da dare alla fidanzata. E in quel caso a me non interessa perché quel tipo di furto a me non ha fatto nessun danno. È una cosa privata, è una cosa senza valore economico. Cioè mettiamola così, se quella persona avesse voluto essere corretta avrebbe magari comprato la mia foto dalla piattaforma di microstocchi invece di rubarmela e a me sarebbero arrivati 10 cents. Per cui non ci ho perso così tanto da quel micro furto. È una cosa che non mi ha arrecato nessun danno. Tanto è un privato cittadino, non me l'avrebbe mai comprata. Me l'ha rubata, amen, non ho ricevuto un grosso danno, non mi interessa. Per cui di questa cosa non mi curo, cioè non ho tempo di occuparmi di un furto di 10 centesimi. Cioè se uno mi ruba 10 centesimi non ho il tempo di occuparmene, mi costa di più occuparmene piuttosto che i 10 centesimi. Prendiamo il secondo caso invece. Mi rubano un'immagine per farci qualcosa di importante a livello economico. Il New York Times mi ruba una foto e ci fa una copertina. E lui sorride, sornione, dice ma io non vedo l'ora che succeda una cosa del genere. Perché? Perché se da una regolare trattativa, e io una volta ho condotto una trattativa come questa, e attenzione, io una volta ho contattato una fotografa del National Geographic, quindi fotografa blasonata, americana, brava, una di quelli bravi. Lavoravo in casa editrice, quindi non facevo il fotografo, facevo, lavoravo in casa editrice, quindi impaginavo, facevo le copertine. Ho contattato una fotografa del National Geographic per chiederle di poter usare una sua foto per fare la copertina di un libro. Abbiamo pattuito la cifra di 300 euro per l'utilizzo di quella foto per la copertina, e di altri 150 euro per l'utilizzo di quella foto, perché ogni utilizzo deve essere retribuito, quindi se io ci faccio la copertina pago, se io voglio farci una locandina pago di nuovo. Per cui abbiamo pagato sia la copertina sia la locandina, quindi 450 euro totale. Ora qual è il punto? Se io metto le mie immagini su una piattaforma di microstock me le pagano poco, e quindi lì pacifico. Nel momento in cui c'è una trattativa privata, e quindi un privato o una casa editrice o un ente o chi che sia viene da me e mi chiede di usare una mia foto al di fuori del circuito di microstock, la cifra è diversa, la cifra è più alta, è come se stessi acquistando una licenza estesa, quindi se prendi una licenza estesa su ghetti o su qualsiasi altra piattaforma di microstock la puoi pagare anche 600 euro, dipende dall'utilizzo che ne fai. Per cui la cifra è diversa. Quindi copertina del libro più locandina 450 euro. E quindi la fotografa si è portata a casa 450 euro puliti. Ora che cosa sarebbe successo se io non avessi chiesto il permesso? Ora trattandosi di una pubblicazione piccola, è possibile che la fotografa in questione non se ne sarebbe mai nemmeno accorta. Nel caso del New York Times, voi immaginatevi il New York Times o un altro giornale importante, quello che volete, la rivista Time, Vogue, quello che volete, io donna, qualsiasi magazine, immaginatevi che cosa succede se un magazine importante mi ruba una foto, quindi la prende, la pubblica senza il mio permesso, e io me ne accorgo. Ed è probabile che io me ne accorga, perché magari ho raffinato uno stile un po' personale in vita mia e quindi magari qualche mio amico, conoscente o contatto legge quella rivista e mi dice cavolo, che bella foto c'è in copertina, sembra una delle tue. Cioè lo scopri, è difficile che tu non la scopra una cosa del genere. Se ti rubano una foto per farne un utilizzo alto a livello economico e di tiratura, te ne accorgi. E cosa succede se te ne accorgi? Che fai causa a chi l'ha pubblicata e la vinci, perché è automatico, la vinci in automatico, perché hai ragione tu, perché la foto è tua, tu puoi dimostrare che la foto è tua, perché ci sono i metadati dell'immagine, tu hai l'originale con i metadati in cui c'è scritto, che è stata scattata dalla tua macchina fotografica con il serial del tuo obiettivo e il serial del tuo corpo macchina, quindi hai automaticamente vinto. E a quel punto non gli chiedi più 450 euro, gliene chiedi 4000. Fa una causa e chiedi 4000 euro alla rivista Time o a Vogue, perché loro hanno tratto un utile dalla pubblicazione della tua fotografia, dalla pirateria della pubblicazione della tua fotografia. Quindi a quel punto gli chiedi un esercimento. E Scott Kelby questo diceva, diceva io non vedo l'ora che pubblichino una fotografia senza il mio permesso, perché se normalmente tramite microstock prenderei 10 cents, tramite trattativo prenderei 400 dollari. Se me la rubano prendo 4000 euro. Poi dipende da chi te la ruba ovviamente, dipende dall'importanza, dalla tiratura di chi te l'ha rubata, però capite che il guadagno è molto maggiore se fai causa a qualcuno che te l'ha rubata, a qualcuno che l'ha pubblicata in maniera fraudolenta senza chiederti il permesso. Per tutta questa serie di motivi io non metto mai il watermark sulle mie immagini, tutt'al più lascio i metadati nella mia fotografia. Chi è del mestiere sa benissimo come interpretare i metadati di una fotografia e quindi vede che l'ho scattata io anche se non c'è scritto a caratteri cubitali sopra il mio soggetto principale. Se invece abbiamo a che fare con persone non del mestiere o inesperte che prendono e pubblicano, i casi sono due. O è un biglietto di San Valentino senza nessun valore e quindi la cosa più signorile che possiamo fare è non fare neanche troppe storie perché non stanno traendo profitto dalla nostra foto, quindi gliela lasciamo. Nel caso in cui invece stiano traendo profitto, facciamo una bella causa subito e gli chiediamo i danni. E attenzione, questo vale anche per i social media. Vi faccio un esempio su tutti. A me capita spesso, nonostante io Instagram non lo usi più fondamentalmente, io non lo uso più perché mi ha deluso come piattaforma, mi ha deluso la gestione di meta. A me prima Instagram piaceva molto. La gestione di meta non mi è piaciuta al punto tale che io ho quasi smesso di utilizzarla quella piattaforma, non mi interessa più. Ciò nonostante mi capita spesso, abbastanza spesso, una volta al mese, che ci siano delle pagine che mi scrivono privatamente e mi chiedono il permesso di utilizzare una mia foto, di ripostarla per fare pubblicità a questo, a quell'altro, metterla dentro magari in un pacchetto in cui promuovono quello che vogliono promuovere loro, non ha neanche molta importanza. Ora, solitamente io rispondo di sì, perché in questo caso ho piacere che il mio lavoro venga condiviso, loro comunque ti taggano, ti taggano, non ti mettono il watermark, ti taggano nella descrizione. Quindi chi è interessato può cliccarmi e venire a vedere chi sono. Però io il watermark non glielo metto in ogni caso, perché non mi interessa. Preferisco essere cliccato nei tag piuttosto che non poter essere cliccato nel watermark che oltretutto rovina e deturpa anche la mia immagine. Quindi questo per dire cosa? Anche sui social vale quanto detto. Quindi anche sui social se la vostra foto viene ripostata da una pagina grossa che potenzialmente trae profitto dalla pubblicazione e non vi ha chiesto il permesso, vale la stessa regola. Voi potete rivalervi per la pubblicazione di una vostra foto senza il permesso, però vedete che non succede, perché le pagine serie il permesso te lo chiedono, le pagine con milioni di like, milioni di follow, te lo chiedono il permesso perché non hanno nessuna voglia di doverti dare quei 4000 dollari famosi. Preferiscono di gran lunga chiederti il permesso, ma la maggior parte delle volte gliela dai gratis, tanto piccola così sui social a me non interessa neanche, non è quello il mio target, non è quello il mio pubblico. Quindi normalmente basta chiederlo per ottenerlo. Quando non ve lo chiedono, quando la prendono in maniera fraudolenta, ecco che lì potete rivalervi. E attenzione, se ve la prendono in maniera fraudolenta, e io lo so perché mi è capitato nella vita che clienti mi chiedessero di rimuovere filigrane e loghi di fotografi e creator vari, quindi nel momento in cui c'è una fotografia con la vostra filigrana, col vostro watermark, massima premura del cliente sarà rimuovere il vostro watermark, facendo un crop o andando a cancellare con timbro clone o altri strumenti di fotoritocco. Quindi state sereni che il cliente ignorante non è che vi riconosce un diritto sull'immagine perché avete messo il watermark, anzi si darà la premura di cancellarlo. Questo è semplicemente per dirvi la mia opinione. Per quanto mi riguarda, utilità del watermark pari a zero fotonico, mentre metadati e tag assolutamente utili, ma non vanno a incidere sull'immagine perché sono invisibili, sono visibili solamente a un esame più attento da parte di chi l'ha scaricata e sta per utilizzarla. A questo punto amici, come sempre vi chiedo, lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me oppure se avete esperienze diverse. E badate bene, se voi mi scrivete semplicemente ah sono d'accordo con te 100%, a me fa piacere perché vuol dire che ho azzeccato un mood, una sorta di fenomeno culturale in atto, ma se voi invece mi dite non sono assolutamente d'accordo con te per me il watermark è oro, io sono più contento perché mi state insegnando una cosa voi. Quindi non abbiate timore di dire che non siete d'accordo con me perché io sono qui anche per imparare. Per cui ci vediamo nei commenti, vi ricordo di seguire il canale così non vi perdete i prossimi aggiornamenti, lasciate anche un like a questo video che male non vi fa e gratis ai pollici ce li avete. Grazie di aver trascorso un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.